Bene amici di Telefono.net, abbiamo l'opportunità di provare in anteprima l'Optimus G, uno smartphone davvero interessante, arriverà sul mercato italiano nel primo trimestre 2013, vi parlo prima di tutto dei materiali che sono davvero molto molto buoni, vetro davanti e anche vetro dietro con questa texture che sembra quasi tridimensionale, molto bello da tenere in mano anche per le dimensioni, 131,9, 68,9 di larghezza e solo 8,5 mm di spessore per 145 grammi, ma quello che ci piace di più è il display, guardate che bello questo display da 1280 x 768 pixel IPS, la particolarità è che LG è riuscito a togliere vari strati tra il display LCD e il touchscreen in modo da riuscire a dare una sensazione quasi di toccare le immagini, veramente molto molto bello. 2 GB di RAM, 32 GB di storage, non c'è la batteria rimovibile, è da 2100 mAh ed è integrata, camera da 13 megapixel con il flash LED, lato sinistro con i pulsanti per il volume, lato destro con accensione e spegnimento sopra jack per la cuffia e secondo microfono per i frusci per eliminarli. Nella versione europea ovviamente non ci sarà l'antenna che è presente nella versione coreana, noi stiamo provando la versione coreana quindi anche il software avrà qualche piccola differenza della versione europea. Entriamo nelle impostazioni, uscirà in Italia con Ice Cream Sandwich, noi stiamo provando la versione con Jelly Bean, scusatemi stiamo provando la versione Ice Cream Sandwich, eccolo qua, vi faccio vedere le varie informazioni. Il processore è il Qualcomm S4 Pro Crite quindi quad core da 1.5 MHz che fa girare il telefono veramente molto molto bene. Sono collegato in teetering col mio cellulare quindi la velocità non è altissima proprio per questo motivo, andiamo a vedere il Corriere della Sera che è sempre un sito un pochino pesante e problematico, mettiamolo in desktop mode, intanto vi faccio vedere come nel browser c'è la classica barra qua sotto di LG con l'indietro torna alla home e aggiungi una pagina. eccoci qua, guardate come è fluido questo browser, pinch to zoom, veramente velocissimo, display eccezionale, veramente mi lascia quasi a bocca aperta, guardate che definizione dei caratteri, veramente notevole. Avevo aperto anche la pagina di telefonino.net che si sta ricaricando nel frattempo, mentre carica le pagine, intanto vi faccio vedere le altre applicazioni interessanti personalizzate da LG. La prima, Quick Memo, se io inizio a scrivere un memo sul display e poi premo questo pulsante, intelligentemente posso usare qualsiasi applicazione in background in modo da avere visualizzato il memo ma poter utilizzare qualsiasi funzione. Pensate se prendo un appunto di un numero di telefono col dito, poi posso andare sulla parte telefonica e fare la mia chiamata, veramente molto molto comodo. Poi ovviamente se torno su Quick Memo posso tranquillamente cancellare, modificare il memo, salvarlo, condividerlo oppure eliminarlo. Davvero molto molto comodo. Altra funzione nuova di questo Optimus G, se vado nella galleria, per esempio nei video, ho la classica possibilità di zoomare il video, spostarlo mentre sta riproducendosi, ma una funzione ancora più interessante è questa, mettere in secondo piano il video con una trasparenza che posso decidere con questo cursore e utilizzare sotto il telefono, non so, sto guardando un video, mi arriva una chiamata oppure mi ricordo che devo mandare un messaggio, posso farlo semplicemente con questa funzione facendo scurire o far diventare più trasparente il video, davvero molto molto interessante. Fotocamera, vi dicevo prima 13 megapixel, ho fatto qualche scatto qui al volo, sono veramente belli scatti, guardate questa foto, fatta con luce non eccezionale, è veramente buona. Inoltre due funzioni interessanti, oltre al classico multiscatto, anche quest'altra funzione che ci consente, questo è il nostro amico Raffaele di LG che salutiamo, ci consente di scattare una fotografia, il telefono mantiene in memoria i due secondi precedenti lo scatto, di modo che se lo scatto con un leggero ritardo posso recuperare i frame anteriori, cosa veramente furba e molto comoda. Qua sotto c'è la porta micro USB che è uscita MHL, ovviamente è presente la possibilità di cambiare le icone, posso cambiare anche l'immagine dell'icona, questa è la classica personalizzazione della user interface di LG, pinch per modificare le pagine della home, ma stavamo facendo una prova di internet, ok, si è caricato a telefonino.net, guardate che velocità ha questo telefono, velocità sia di rendering sia di pan e che chiarezza di display, veramente molto molto buona. Speriamo di provarlo, anzi è una promessa, qua da LG ce l'hanno promesso, di provarlo nei prossimi giorni in maniera approfondita, in attesa di trovarlo sugli scaffali nel 2013, non chiedetemi il prezzo perché ovviamente non è ancora stato fissato, vi saluto da Andrea Galeazzi per telefonino.net